Presidente, il discorso del viceministro Lapo Pistelli è sicuramente condivisibile, apprezzabile per molti versi, però io vi chiedo se non si dovrebbe cominciare a guardare nelle prospettive di sviluppo in maniera diversa, quindi cercare di capire qual è la radice del problema che causa lo sfruttamento in questi Paesi e quindi per esempio, al posto di andare a chiedere agli Stati di intervenire con degli aiuti umanitari, che è quello che si è sempre cercato di fare, provare a far pagare i responsabili dei problemi nei Paesi di sviluppo, ad esempio in Centrafica chi è che estrae e sfrutta le materie prime, chi è che utilizza il Coltan, chi è che vende le armi in questi Paesi qua? La mia domanda è quella, c'è l'intenzione da parte di questa Presidenza di cambiare appunto marcia, di cambiare tendenza e andare a cercare di risolvere il problema alla radice. Al mio collega italiano voglio dire che non vorrei sovraccaricare eccessivamente le aspettative sulla Presidenza italiana, immaginando che noi siamo capaci di reimpostare una discussione politica e anche teorica sulle cause profonde del sottosviluppo e sul ruolo cattivo, sul ruolo nefasto, che una relazione fra nord e sud del pianeta ha portato nel lungo corso, nel lungo periodo. Abbiamo ambizioni più moderate, visto che i sei mesi purtroppo sono sei mesi e non sei anni e quindi questa discussione che prendo a bordo dal punto di vista dello stimolo politico difficilmente potrebbe avere risposte definitive durante i sei mesi della Presidenza italiana.